Allora, tra intendi, noi siamo una generazione ultracriticata, siamo criticati dai vecchi, io alla tua età, io alla tua età c'avevo i valori, io pensavo alla famiglia, ai figli, tu alla mia età pensavi che farsi il frisee ai capelli fosse una buona idea, non sei nella posizione, ma beh la cosa che mi addolora è che ci prendano in giro i giovani, io zia, ancora fare i test di BuzzFeed sulle case di Harry Potter, non c'è bisogno di essere offensivi, siamo sensibili, noi Tassorosso. Fanno questi video per prenderci in giro da 15 secondi, 30 secondi, anche un minuto, è straordinario che è riusciata a stare concentrati così a lungo, in cui ci prendono in giro dicendo che non siamo diventati abbastanza adulti, non sappiamo cavarcela e la cosa triste è che hanno ragione, i nostri coetanei all'estero hanno figli che vanno alle medie, noi riviviamo le nostre scuole medie di continuo, di continuo, un concerto di Cristina d'Avena alla volta, siamo fuori corso emotivi di 25 anni, noi non abbiamo mai veramente superato quella fase della vita in cui ti fanno l'applauso perché hai finito tutta la pappa, siamo ancora un po' tipo mamma guarda ho fatto un disegno, ok, non lo appendi al frigo mamma, no, e perché non lo prendi al frigo mamma, perché hai 34 anni? E questo atteggiamento è pervasivo e se pensate che non vi riguardi in realtà vi riguarda, facciamo un test, quante di voi, urlate, si offendono se vengono chiamate signora? Io sono circondata da queste donne che vanno per i 40 e continuano a dirmi, oh ma lo sai che sono l'atobus? C'è stava un ragazzino che mi ha chiesto se me volevo sedere, mi ha chiamato signora, ma io sono giovane, no, lui è giovane, lui è nato che non c'erano più due torri gemelle, tu sei nata che c'erano due germanie, la percepisci la differenza, non è totalmente colpa nostra, è che noi siamo degli adulti a basso budget, lo strumento, il mezzo di trasporto simbolo della generazione dei nostri genitori era qualunque automobile con turbo nel nome, il mezzo di trasporto simbolo della mia generazione è un monopattino che noleggiamo, le case dei nostri genitori erano strapiene di oggetti, adesso le case dei ricchi sono minimaliste, sono vuote, se tu prendi la casa di un trentenne che ce l'ha fatta e la casa di un contadino lucano degli anni 50, sono uguali, solo che il primo c'è il cuore di Seletti sul tavolo, ma per il resto sono identiche, cioè noi siamo una generazione e diciamo siamo poveri come la merda ragazzi, quindi noi di tutto il panorama case libriato e agi fogli di giornale dovevamo un po' scegliere e abbiamo deciso di diventare la generazione dell'esperienza e qual'è l'esperienza, qual'è la cosa che se prendi una qualunque ragazza sopra i 25 anni e le chiedi cosa faresti se avessi tempo e soldi infinito, ti risponde al mio tre, viaggi, io viaggerei sempre, io vorrei andare a staccare, riprendermi, ricominciarmi in un posto dove posso stare sola, tipo l'India, ma è piena di gente l'India, che schifo le cose, non le voglio le cose, a cosa ti servono le cose quando hai il tuo iPhone 13, il tuo MacBook Pro e il tuo caravan con cui puoi pubblicare il tuo podcast facendo il nomade digitale, a cosa ti servono le cose quando puoi avere l'affetto di Loki, un bernese di 50 kg che ti mangia un chilo e mezzo di macinato al giorno e caga altrettanto, non voglio cose, voglio good vibes e con questo principio sono nati i blogger di viaggi, cioè persone il cui 90% della personalità è determinata dal fatto che non vorrebbero mai essere qui e che poi ti scrivono, io non sono un turista, sono un viaggiatore, italian model è la bandiera dell'Irlanda. Io ho un sogno, I have a sogno, io vorrei che tutti gli uomini avessero la figa per un giorno, la propria però, non quella di qualcun altro, eh? E la figa, eh? Non le tette, no? Perché tu dici un uomo, mettiti nei miei panni e loro subito si immaginano questa sesta di reggiseno che sta su da sola, no? Oh, con un bottiglione da tre litri di Oumber Dio Johnson, ah, glò, 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 glò... Un'alla volta, oh, glò, 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 glò... Ohh no, no... Dagli una figa tutta sua da gestire , poi ne riparliamo. Come ti chiami? Luigi? Luigi, ti piacerebbe avere una figa, sarebbe subito lì a misurarsi il clitoride, tutto sudato, Luigi, con gli occhiali, perché comunque stiamo parlando di millimetri, tu Franco e io 0,6, te e io 0,5, grande Luigi, e l'igiene intima, gente abituata a fare i bidet solo se cade di culo nella pozzanghera, che all'improvviso si trova a gestire questo organo in cui i batteri non crescono fuori, ma crescono dentro, ma tu ti immagini di queste nuove malattie che proliferano nel mondo, questi ceppi nuovi, queste colture batteriche sconfinate, strawberry fields forever, ma non quella dei Beatles, e poi quando una volta al mese arriva aplanando il barone rosso, Luigi, io ti vedo a terra, morto, alla vista del sangue del prezzo degli assorbenti, che poi, curiosità, c'è qualcuna di voi incinta in questo momento? Tu, primo figlio? Primo figlio. Cioè, come ti chiami? Barbara. Barbara. Cioè, mentre noi ci stiamo facendo i cazzi nostri, Barbara sta facendo un figlio. Eh? Cioè, perché si considera poco il fatto che noi donne, no? Da sole, dentro di noi, senza l'aiuto di nessuno, noi facciamo i bambini. Cioè, tu ti immagini se Luigi e i suoi simili dovessero portare avanti la specie? Eh? Cioè, in una botta sola avremmo risolto il problema del surriscaldamento globale e della sovrappopolazione, perché saremmo estinti da 400 anni. Aspetta, no, per dubbio, scusami. Aspetta, aspetta, aspetta. Tu, Luigi, non hai mai partorito, vero? Ti piacerebbe provare l'esperienza? Eh? Non valgono le morroidi? Ok. Invece no, Barbara sta facendo, sta facendo le persone. Cioè, noi donne generiamo la vita. Noi donne siamo dei geni. Ma, ma cazzo, ma il colloquio di... Ma vieni a farmi il mansplaining adesso? Eh? Ma io faccio le persone. Ma sai che cosa me ne frega se parcheggio di merda? Eh? Dai, dai, vieni. Cioè, vieni a sbraitare, no? Perché ti vedo con il tuo clacso esaurito perché mi sto prendendo troppo tempo per entrare nel parcheggio S con una Twingo. Che cazzo vuoi? Se mi rompi i coglioni io faccio una persona che parcheggia al posto mio. Eh? Grande Barbara. Grande Barbara. Va bene, questo era un po' per me il riassunto di che cosa significa la potenza della figa. Da quando lo scopri fino a quando spari fuori il primo proiettile umano. Che però ci tengo a dire alle colleghe di vagina in casa, in sala, che non è indispensabile. Dico, fare un figlio. Ok? Lo so, io sono Alice della Pozzolis Family. Forse questa cosa vi suona un pochino strano perché io sono la portavoce positiva della gravidanza, dell'esperienza con dei bambini ed è così. Cioè, vi giuro, guarda, i figli sono la cosa migliore che io abbia fatto. Ma non è indispensabile. Perché la società un po' ci pressa, no? Ti dice, devi fare un figlio a un certo punto, l'orologio biologico. Don, 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 no? Ma non è indispensabile. Non è quello che ci rende delle donne complete. E ti viene la fissa. Deve essere una donna completa, completa, completa di fare un figlio, completa. Scibolla, peperone, salsa peccante. Che cazzo siamo? Dei kebab? E comunque sul piatto della bilancia, tra i pro e... bilancia di cui non vi dirò il risultato. Tra i pro e contro della vera una figa per me alla fine vincono i pro. E in ogni caso, se qualcuno vi dovesse far sentire un passo indietro, voi rispondete come diceva sempre Ginger Roger. Io faccio tutto quello che fa Fred Astaire, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. Allora, io sono entrata nell'età in cui non mi interessa più essere single. Devo dire la verità, non ci patisco più dell'essere single, assolutamente. Quello che mi dà fastidio sono le frasi che dicono alle persone single. La più classica è... Per trovare qualcuno, devi prima imparare a star bene da solo. E se cerchi casa, impara prima a dormire bene in macchina. Vedrai che la casa arriva. Sì, vuoi dimagrire? Ammazzati di sprisse e patatine. Vedrai che la magritudine arriverà. Ma se imparo a star bene da sola, ma poi, che cazzo me ne frega poi più di trovare qualcuno? No? Stiamo d'accordo. Perché questa cosa dell'imparare a star bene da sola è una cazzata. Voglio dire, di cosa parlano le canzoni? Di cosa parlano i film? Di gente che si innamora, di gente che si lascia, di gente che si tradisce. Io non ho mai avuto un'amica che è venuta da me e mi ha detto guarda, ho visto un film bellissimo, un film da Oscar, cioè, ha vinto non so quanti premi. Ho ancora i brividi da ieri sera, cioè, un film che parla di una che sta bene da sola. Che figata. Sì, ma succederà qualcosa in questo cazzo di film? Che ne so, ci sarà un cattivo in questo film? Ah, ah, sì, 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 c'è un cattivo, cattivo, cattivissimo. Però anche lui sta bene da solo. Quindi non si incontrano mai. Ma che film di merda è, voglio dire? Un film in cui questi la mattina si alzano, bevono il tè verde, poi fanno un po' di movimento, mangiano cereali senza zucchero, a pranzo vanno in palestra e la sera prendono l'aperitivo con le amiche. Cioè, essere single è un film francese lentissimo sottotitolato in coreano, cazzo. Fa schifo. E siamo tantissime così, siamo tantissime. Perché diciamoci la verità, ormai trovare un uomo etero a Milano, te lo devi far mandare col pacco da giù. Che non a caso si chiama pacco da giù. Noi in Puglia andiamo a fare turismo sessuale, noi milanesi, no? Il vantaggio è che alla mia età, però, non mi dicono più quelle frasi del tipo «Ah, sei single?», «Ah». Ormai mi dicono «Ah, sei single?», «Ah». E la conversazione, capito, finisce lì, praticamente. E l'altro vantaggio dell'essere single, alla mia età almeno, è che esci con una fascia di persone piuttosto ampia. Più o meno fra i 30 e i 50. Io esco con persone, insomma, sono quasi padri e figli. Più che un orgio è un family day, capito? Io esco con gente così e è pazzesco perché sono 30 e 50 prima e dopo il porno di massa, praticamente. E vedi la differenza. Cioè, ci sono alcuni ragazzi giovani qua e alcune ragazze giovani. Cioè, uscire con i trentenni è un incubo. Io ci ho provato, è un incubo. Perché devono sempre appenderti da qualche parte. Io non lo so, sono uscita con uno, tipo, otto mesi fa. Carino, educato, abbiamo preso l'aperitivo insieme. Saliamo in casa sua, iniziamo a baciarci. Era normale fino a un secondo prima. Iniziamo a baciarci e lui parte con «Oh, yes, baby!» «Oh, come on, baby!» «Oh, yes!» «Oh, yes, baby!» «Che cazzo è un corso d'inglese?» «Livello B2?» «The beach is on the table!» Io non lo so, non lo so che categorie porno avete voi trentenni. Avete queste categorie Rodeo, Cirque du Soleil avanzato. I cinquantenni no, ve lo giuro, i cinquantenni sono rilassati. I cinquantenni quando ci fai sesso ti danno del voi. Sì, come un porno fascista senza olio di ricino. Capito? Sono rilassati, loro hanno queste categorie rilassate. Che ne so, signorina al bar mi sorride, gonna sopra il ginocchio, spallina nuda a primavera. Sono rilassati non che i cinquantenni non conoscono il porno. E come? Cioè, voglio dire, ormai il porno comanda. Ormai Pornhub ha il dominio su di noi. Dopo due lockdown, no? Ormai potrebbe fare l'upgrade, passare direttamente da Pornhub.it a Pornhub.gov. Con lo speed per entrare. Cioè, ormai Pornhub, mette le sanzioni alla Russia. Ed è stata la prima volta in cui ho visto Putin fare Eh! Qui i ragazzi cominciano a buttare male. Cioè, se volesse, Pornhub, sì, potrebbe chiedere di entrare nella Nato. Potrebbe fare stato autonomo ed entrerebbe nella Nato, ovviamente, a modo suo. Oh yes, Nato! Come on, Nato, baby! Oh yes, Nato! Vabbè, niente. Come ha detto il presentatore, io mi chiamo Sofia Gottardi. Piacere, piacere, piacere. Ho 26 anni e sono molto felice di averne 26 perché quando ne avevo 15 io facevo strafatica a fare amicizia con le mie compagne di classe perché io ero considerata la classica ragazza strana della classe. Cioè, quella che si veste in modo strano, fa battute inopportune, mangia la carta senza nessun motivo. Spoiler, un motivo c'era. Fibre. E mi ricordo che fin dal primo giorno di scuola io mi vestivo in modo un po' eccentrico, un po' così, perché io ho sempre adorato la musica metal. Presente i metallari, no? capelli lunghi, vestiti di nero, prendono il microfono e fanno... Ruttano boccolo che fanno i metallari. A me piace. Anche se mia nonna ogni tanto mi fa non soffia. Non soffia! Devi smetterla di ascoltare quelli che urlano e parlano di morte. Me lo dice mentre guarda Barbara D'Urso. Ragazzi, io non lo so. Devo dire che per il mio stile aggressivo molti potevano pensare che io fossi una strong d'acciaio, però in realtà sono sempre stata molto insicura e passavo le giornate a leggere libri fantasy e a immaginarmi di essere creature fantastiche. Cioè, mi immaginavo di essere tipo una vampira, una fata, Fedez. Ed ero così persa nel mio magico mondo che non riuscivo a seguire le conversazioni delle mie compagne e facevo un sacco di figure di merda. Tipo la mia migliore amica Alessia a una certa voleva dirmi per la prima volta che è una ragazza trans, già operata, quindi una cosa importante. Solo che io ero così cogliona che non mi ero mai resa conto prima che lei fosse trans e lei si vergognava a dirmelo, quindi la conversazione è andata così. Sofia, volevo dirti che tu mi conosci come Alessia, però da bambina mi chiamavo Alfio. Cioè, capisci perché? Beh, certo, ma Alfio è un nome orribile da dare a una bambina, anche avrei scelto Alessia. No! No, Sofia! Sono trans! Cretina! Scusa, ma come fai a non capirlo? Sono alta e ho la voce bassa? Così ho capito che non solo non so riconoscere le donne trans, ma potrei essere una di loro. raga, se io facevo queste figure di merda con la mia migliore amica, provate a immaginarvi con le mie compagne di classe con cui cercavo di fare amicizia. Io non capivo un cazzo di quello che dicevano e non solo, io rispondevo sempre in modo inopportuno. Perché? Perché sono una cogliona, perché mi diverto così. Cioè, il primo giorno di scuola una mi fa Sofia, come fai a non capire che sono arrabbiata? Su WhatsApp ho scritto ok, tre punti. Eh? Eh, tre punti vuol dire sono arrabbiata? In braille? Ragazza diversa, giorno dopo. Sofia, ho visto che il mio ragazzo ha messo mi piace una foto di Sara e volevo ucciderlo. Poi però ho visto che nella foto c'era solo un cane e mi sono tranquillizzata. Gioia, se secondo te un mi piace equivale a un ti voglio sposare, io mi preoccupo di più se mette mi piace al cane che ha Sara. Cioè, come fai a competere con un cane? Non hai il pedigree. Sì, ho detto davvero questo. Infatti, pensate, se prima le mie compagne erano incazzate, dopo aver parlato con me erano ancora più incazzate. Perché quale cogliona ti risponde in questo modo? Io! Vi piace questo? Io! Solo che a una certa le mie compagne in riunione di classe hanno ammesso che nessuna di loro voleva sedersi in banco con me e quando l'ho scoperto ho cominciato a stare male. Anche perché loro mi sparlavano alle spalle, soprattutto quando hanno scoperto che io a 18 anni ero vergine e senza ragazzo perché ero strana. Però Alessia ha cercato di aiutarmi. Cioè ogni sabato sera cercava di accompagnarmi in discoteca senza riuscirci. Ogni sabato sera entrava in camera mia ubriaca del tipo Sofia! Noi siamo vicentine però quando Alessia ubriaca diventa milanese. Non so perché. Sofia! Figa! stasera troviamo un messere che ti fa perdere l'imene. No, no, no! Che ansia! Scusami ma come faccio a far entrare nel mio corpo uno che non conosco? Oh! Non parli con gli hamburger prima di mangiarli. Andiamo! E questa è Alessia. Onesta. Alessia è così onesta che una volta mi fa Sofia però è ovvio che sei vergine se ti travesti da Loredana Bertè. Sai una cosa? Non è vero perché io un giorno andrò dalla mia dolce metà vestita come voglio io di nero con le borche al collo gli chiederò di sposarmi e lui mi dirà di sì perché avrà paura a dirmi di no. Chissà perché ero vergine no? Qual è il problema della borghesia? È un problema che ci riguarda tutti pensiamo tutti allo stesso modo è un po' questo il problema ci stanno accusando di questo c'è un pensiero unico di cui nessuno parla eppure c'è si pensa tutti allo stesso modo perché così è bene non esistono bambini brutti ma dobbiamo trovare il coraggio di dirlo ne parleremo dobbiamo trovare il coraggio di dire ma signora ma è suo l'ha fatto con Satana no perché lei è una bella donna è una bella donna che gente siamo diventate la gente che pensa che non esistano mamme cattive mentre la società perlomeno quella italiana si basa sulle mamme cattive la gente che giura spergiura di non aver mai visto un programma di Maria De Filippi che però ha degli indici di ascolto pazzeschi credo che sia il programma che fa più indici di ascolto degli ascolti un audite l'assurdo allora chi cazzo li guarda? dicelo Gesù chi guarda quella roba? affinché si possa punire gente perfetta che millanta di fare la raccolta differenziata soltanto quando ospiti a cena vi è mai capitato di trovare questa gente terribile che ti dice sì no metti tutto insieme che poi ci penso io poi smisto io ce la vedi no? con gli annellini d'oro il vestito di Marni che a luna di notte si china sul sacco apre il sacco inizia a mescolare a ravanare nella sugna e tira fuori vaschetta per vaschetta e le lava tutte ipocriti preferisco i miei genitori a questo punto gente più schietta mia mamma fa un enorme sacco nero e lo consegna a mio padre gli dice tieni Giorgio vai ma non abbiamo tempo per queste cazzate moriremo prima e mio padre va come i nani di biancaneve al giardinetto a mettere il sacco nero nel bidoncino del parco che è largo così lo infila inizia a luna di notte così nel frattempo scrocca le sigarette ai tossici perché lui non può fumare in casa e allora va fuori con questa scusa che gente che siamo diventata gente che si professa vegana e poi va col passamontagna e la macchina della madre al make drive di notte e mi dà due cheeseburger brutte persone gente che millanta di non mettersi le dita nel naso questa cosa io non la abbiamo un naso a cosa servirà oltre che a respirare bisognerà pulirlo non sopporto quelli che se lo puliscono vabbè è una cosa che veramente non tollero ma non tollero ancora di più che tu mi dica che non te le sei mai messe le dita nel lato io le dita nel lato stai scherzando ma sei sicuro neanche in un viaggio fai conto di 7-8 ore sei da solo in macchina cosa fai dopo che hai ascoltato la musica hai mangiato le mandorle tostate per carità mangiale prima no 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 io le dita nel naso mai ma sei sicuro guarda che controllo sotto al sedile della macchina vai controlla pure controlla pure guarda che c'ho la torcia quella delle iene sai questi laser che vedono i liquidi vai controlla pure vai a vedere là sotto e c'è la stessa conformazione rocciosa delle grotte di Castellana una volta ho fatto questa battuta in un teatro non è una battuta poi è una insomma descrizione e si è alzata una signora dicendo si vergogni a parlare male delle grotte di Castellana e sono patrimonio dell'UNESCO e tu signora ultimamente anche i tombini sono patrimonio dell'UNESCO mi scusi mi scusi le parole che dice più frequentemente un comico ultimamente in Italia scusate che brutte persone che siamo diventate e stasera ne parleremo le persone che dicono ho un matrimonio perfetto sono molto molto fortunata sai un matrimonio perfetto e nel frattempo si tengono stretto stretto lo smartphone in tasca che bel silenzio in questa sala quando dico queste cose sentite che ghiaccio che si crea mi piace invece nella mia generazione diciamo la questione ambientale è diventata una cosa un po' fighetta è una cosa un po' cool cioè è una cosa che fa figo un po' essere attenti alla questione ambientale e io mi ricordo che 15 anni fa bullizzavo mia sorella perché non faceva la raccolta differenziata l'anno dopo vado a casa si era comprata i secchi differenziati di design capito e subito dopo ha cominciato a mangiare biologico e intendo dire in tempi non sospetti cioè quando ha mangiato biologico erano solo lei e lì c'ha colò ok per farvi capire la questione e mi ricordo che questa cosa mi colpì molto dico cavolo io che sono una senso di colpista dico no devo recuperare assolutamente questo gap con mia sorella e provai anche io andare in un negozio biologico e mi ricordo che camminando per gli scaffali di questo negozio ebbi un'illuminazione realizzai una cosa che non avevo mai capito prima mia sorella è ricca una cosa che scoprirlo così è stata durissima durissima io non mi voglio piegare a questo marketing del biologico con questi prezzi allucinanti io mangio bio solo una volta al mese i giorni in cui mi sento particolarmente ipocondriaca lo stesso giorno in cui vado in piscina perché mi sento particolarmente gonfia insomma il giorno prima del ciclo per capirci che uno dice vabbè ma così non serve a niente no non è vero serve perché io prima di questa routine quando il giorno prima del ciclo uscivo di casa a riga le macchine con la chiave capito era un po' nervosetta allora io ingarellandomi con questa cosa di mia sorella che mi stava un po' scavalcando su sta cosa dell'ecologismo a un certo punto mi sono detto posso fare di più posso risparmiare l'acqua e quindi mi sono messa a guardare dei tutorial e ho trovato un tutorial bellissimo che ti spiega come asciugarti le mani usando una sola salvietta quando vai nei posti pubblici no niente è facilissimo devi sgrullare molto le mani devi sgrullare molto e io ho deciso di fare anche di più io proprio ormai le sgrullo le sgrullo le sgrullo e poi alla fine per asciugarle le lecco così mi idrato anche sì 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 no ci tengo proprio a mettere questo primato cioè per me è una cosa importante anche perché nella mia bolla di fighetti ambientalisti in 15 anni le abitudini sono molto cambiate cioè mi ricordo 15 anni fa c'eravano veramente poche persone che avevano la bici la bici a scatto fisso no? normalmente era bici a scatto fisso e barba vabbè era il periodo degli hipster così che mi sono sempre chiesto ma chissà se la barba è finta gliela regalano insieme alla sella vintage perché era strana questa coincidenza e insomma mi ricordo i miei amici che andavano alla critical mass no? una volta al mese io gli dicevo sempre guarda cioè pensare di essere ecologista perché vai in bicicletta una volta al mese è come pensare di avercelo grosso perché c'è le mutande strette cioè non funziona così dai non funziona così e quindi invece purtroppo devo notare che adesso tutti i miei amici vanno al lavoro in bicicletta la usano tantissimo e a me questa cosa mi fa rosicare da morire proprio una cosa mi fa impazzire perché io invece ho paura di andare in bicicletta in città e quando ho scoperto questa cosa che stavo rimanendo indietro nella figaggine ambientalista ho proprio rosicato ho avuto un momento di rabbia e ho commesso un gesto estremo ho buttato lo smalto nel compost proprio perché non ce la facevo più mi sono dovuta sfogare mi sono dovuta sfogare però io ho le mie risorse nel senso che se tu sei quello che mangia bio io sono quella che risparmia l'acqua cioè se tu vai in bicicletta io uso i detersivi eco tu sei vegano? io pratico la castità ecologica dice che cazzo è? niente mi viene a prendere con la macchina diesel e non te la do cioè è semplicemente questo è semplicemente questo però per dire che io voglio essere parte del cambiamento cioè io ce la sto mettendo tutta e devo dire ero pure abbastanza soddisfatta di come stava andando fino a che una mia amica mi ha fatto notare che gli assorbenti inquinano è che dovrei usare la coppetta mestruale no la coppetta mestruale no no la coppetta mestruale io non la sopporto ora io non so se qua vedo c'è qualcuno un po' più grande scusate che vedo qui la coppetta mestruale spieghiamo un secondo che cos'è è letteralmente una coppetta di silicone che sotto ha una bacchettina sempre di silicone che serve per infilarla e toglierla tu la infili e quella aderisce perfettamente al collo dell'utero in pratica è l'ostura lavandini della fregna per capirci sono stata chiara? qua si fa anche divulgazione scientifica a stand up comedy e io non la voglio usare questa coppetta mestruale che poi quando te la devi togliere è un casino devi stare là che frughi è una cosa fastidiosa sembra la ricerca del sacro graal veramente non mi piace sta cosa e allora la mia amica dice ma non è vero guarda la coppetta è comodissima ecco a me quelle che mi vengono a dire che la coppetta mestruale è comodissima secondo me è che sono tipo da sciottino ma non hai capito bella qua ogni mese è oktoberfest cioè non posso capito non è colpa mia allora io voglio dire sono solo una cosa mi sta mettendo in pace il mio senso di colpa su sto fatto degli assorbenti che inquinano che la commissione europea ha fissato al 2050 la scadenza per la neutralità ecologica ora non vorrei di ma secondo me nel 2050 io dovrei essere andata in meno pausa grazie 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 a tutti